Ecco, dall'aeroporto Cattullo di Verona si vola direttamente a Catania. Ragazzi sono loro, ecco, che lo prima, la linea scala. Un bel applauso a loro che arrivano da più montane in assoluto. Stesse modalità di prima, 2 minuti e 30. I giudici sono pronti? Possiamo cominciare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.